E' stato un fine settimana positivo, quello che si è appena concluso per i ristoratori della provincia. La ricorrenza di San Valentino ha fatto registrare il pieno nei ristoranti, non solo della costa, ma anche in quelli dell'entroterra. Un piccolo momento di ritorno alla normalità per migliaia di coppie che hanno scelto di godersi il pranzo fuori, festeggiando il loro amore. La gente ha questa voglia di festeggiare, quindi si è mossa tranquillamente. Il bilancio è buono, speriamo che continui così la gente a rispondere, perché sai, inizia ad essere quasi un anno che siamo fermi e abbiamo avuto un sacco di problematiche. Speriamo che si sblocchi un po' tutto e soprattutto che ci diano lavoro alla sera, questo è molto importante. Il ritorno delle Marche in zona gialla, con l'apertura fino alle 18, fa respirare i ristoratori che se da un lato stanno iniziando a intravedere la luce, dall'altro continuano a sperare di poter riaprire presto anche la sera. Abbiamo lavorato molto, le capienze erano quelle che erano, avremmo potuto riempire anche tre ristoranti. Sono molto contenta, la gente è stata bene, è andato tutto bene, almeno abbiamo fatto una festa, abbiamo iniziato quest'anno. Quindi avete dovuto dire no a molti clienti? Molta gente, sì. Tutti i tavoli da due, tutte coppie? Tutti da due, avevamo anche 10 ragazzi, abbiamo fatto tutti i tavoli da quattro naturalmente, però sì, tutti da due. Abbiamo lavorato molto bene ieri, veramente. Da quando siamo tornati in zona gialla, le cose come stanno andando, se possiamo fare un bilancio? Sinceramente non è che è cambiato tanto, insomma un attimino. Il fatto di stare aperti a pranzo è una situazione che va bene nelle grandi metropoli, a noi cambia poco. Ecco, ecco, escluso il sabato e la domenica. Gli altri giorni... Non sonoically che laレtta dell'accelerati a prima, quando stiava anche con la domenicologia. Chiudi, iva, anche adesso non si senti il mo Explorer. Dette è una roba, anche il pac ממ�o?